Io mi chiamo Dallari Daniela, sono nata nel 1950, quindi all'epoca avevo 24 anni, perché è successa il 20 novembre del 1974, ero una giovane sposina perché mi ero appena sposata a giugno dello stesso anno e diciamo che vivevo un periodo felice, perché i primi mesi di matrimonio, una ragazza giovane, piena di entusiasmo nella vita e quindi poi i tempi allora erano anche un po' diversi perché la vita era più tranquilla forse rispetto adesso, certe emozioni si vivevano più intensamente che non rapidamente come oggi, la vita è molto più rapida, ha dei tempi molto più veloci, per cui mi ricordo che quel periodo l'avevo passato bene ed ero felice in quel periodo lì. Lavoravo in ferrovia perché io ero entrata giovanissima, avevo fatto un concorso nelle ferrovie dello Stato, considerando il fatto che io ero appena sposata, forse non l'ho vissuta direttamente, quei mesi lì quando le bombe, non le bombe, quando c'erano stati questi attentati eccetera, l'avevo vissuta un po' marginalmente, perché mi erano arrivate queste notizie però non è che diciamo mi avevano, erano un po' vattate queste notizie che mi erano arrivate e non avevo preso forse coscienza fino in fondo della gravità della situazione. Per quanto riguarda la mia famiglia mi ricordo che comunque c'era stato l'episodio del traliccio a santuario mi pare, no? In quell'occasione, che forse era stato i primi di novembre o verso la fine di ottobre del 74, mi ricordo che in quell'occasione eravamo andati con mio nonno, mio padre, mia nonna, insomma dal punto di vista diciamo dei miei parenti paterni, perché la Dallari faceva parte, la Fanny Dallari faceva parte del ramo paterno diciamo di mio papà e eravamo andati a mangiare in una, a pranzare nell'ambito di un ristorante che si trovava al santuario, molto vicino al traliccio, cioè a quella zona dove era avvenuto il traliccio e mi ricordo che mio nonno, invece lui era stato molto colpito da questo fatto e durante il pranzo ne aveva parlato anche in una maniera un po' molto preoccupato, io avevo recepito forse fino inconsciamente, fino a un certo punto, però non, ecco mi ricordo quel particolare che mio nonno, il quale poi rimarrà lui stesso coinvolto nel, sarà presente nell'appartamento in cui è avvenuto, quindi al momento dell'incidente, era presente anche lui in via Giacchiero con mia zia, che sarebbe stata la sorella, e lui aveva, aveva, si era, era molto preoccupato per questa questione, anche forse perché eravamo molto vicini al, al luogo dove era avvenuto il fatto, poi anche perché mio, mio nonno insegnava alle industriali, quindi era molto più coinvolto nella, nella vita, diciamo, della città, era molto più presente di me che io invece lavoravo a Vado, e quindi ero leggermente più distaccata dalla situazione in cui viveva la mia città, e questo è un ricordo che è molto, molto, molto chiaro, molto, cioè come se fosse, lo vivo come se fosse, e l'ho vissuto nella mia vita, come se fosse adesso, che il giorno prima, il 19 di novembre, era andata da mia zia, che io chiamavo, anche se era la mia prozia, era la mia zia Nellì, perché noi la chiamavamo, lei si chiamava come nascita, come nome di battesimo, era Fanni, ma per noi era la zia Nellì, e la quale, diciamo, era, era una persona molto, benché avesse una determinata età, aveva, credo, più di 80 anni, 82, 83 anni, ora non mi ricordo esattamente, comunque, anche lei in quel periodo stava vivendo un periodo felice, perché era appena, si era appena fatta operare alla schiena, nonostante l'età, e aveva felicemente superato questa operazione, era una persona, questa operazione che l'aveva riportata, diciamo, a una certa autonomia nella sua persona, perché lei era una persona molto attiva, molto esuberante, nonostante l'età, piena di vita, non la vecchina che è stata sempre considerata, forse logicamente, considerando l'età, dall'opinione pubblica, sui giornali, eccetera, era una vecchia persona, era una persona, diciamo, che per i tempi di allora, un po' all'avanguardia, in quanto non si era mai sposata, però aveva avuto una vita molto attiva anche nell'ambito del lavoro, era stata membra del membro, cioè lavorava presso il ministero del tesoro, molto moderna, se vogliamo considerarla, chiamarla così, perché poi è una una persona che è altruista, un po' estrosa, diciamo anche un po' estrosa, perché ha sempre vissuto col suo fratello, col fratello che non era sposato, neanche il fratello, vivevano insieme nello stesso appartamento, e diciamo, mi ricordo che vestiva anche in modo un po' molto particolare, un po' estroso, ma non troppo, nel giusto, però si vedeva che aveva una personalità spiccata questa donna, in più, un'altra nota a suo vantaggio, che era molto legata a un pappagallo che viveva con lei da 30 anni, che lei considerava come, non dico come un figlio, ma lo trattava in una maniera che quasi quasi ci faceva ridere, si chiamava Cocò, il pappagallo. E ritorniamo al giorno prima, il 19 di novembre del 74, mi ha accompagnato il mio marito, mi aveva accompagnato, però non era venuto su, non era salito, anche perché io ero andata da mia zia soltanto per il semplice fatto di dargli la lieta notizia che aspettavo un bambino, e lui, lui ha detto, guarda, vado da, eravamo passati di lì, nelle vicinanze di via Giacchero quella sera, e allora mi è venuto in mente, così all'improvviso, di salire su, dico, guarda, vado dalla zia e gli vado a dire, perché l'avevo appena saputo, che aspettavo un bambino, e ho detto, glielo vado a dire alla zia perché c'era molta confidenza con lei, e così sarà senz'altro contenta di questo. E lui dice, va bene, ti aspetto giù, e aveva posteggiato la sua macchina bianca, ora non mi ricordo bene, ma era una Fiat bianca, l'aveva posteggiata proprio lì vicino, cioè mi stava aspettando giù nella strada, e di fatto questa macchina poi, dopo, verrà presa in considerazione come un possibile, diciamo, persona che aveva fatto l'attentato, invece c'era quella macchina, era la nostra macchina, era di mio marito. Vado su e sto brevemente, lei non mi aspettava, mi accoglie ed era sola, non c'era il fratello, e gli dico, zia, guarda, sono venuta da te soltanto per dirti che aspetto un bambino. E lei è stata molto, molto contenta di questo, tanto è vero che in quell'occasione aveva un anello, un suo, a cui lei teneva molto, e mi prestò questo anello, mi dice, guarda, questo anello te lo presto solo, però ti porterà fortuna, perché ti porterà bene, tienilo, perché mi ha piacere che in questi mesi tu lo porti al dito. Questo è stato l'ultimo, diciamo, ricordo, e credo di essere stata l'ultima persona che l'ha vista felice. Lei mi ha accompagnato sul, quando l'ho lasciata, mi ha accompagnato sul balattoio, quella benedetta casa in cui lei abitava da anni, a cui lei era molto regata, perché dalla camera in cui lei si trovava, vedeva tutto il prolungamento, i giardini del prolungamento, che lei considerava i miei giardini, perché era una vita che abitava lì e vedeva queste piante. Questo soggiorno era praticamente, il pavimento di questo soggiorno era il soffitto del portone. L'ultimo ricordo di mia zia che ho, ciao Daniela, mentre io scendo per andare nel portone, ciao, tutta contenta, mi saluta, l'ora in cui io sono andata a trovare mia zia, la sera prima, era esattamente più o meno l'ora in cui il giorno dopo, a 24 ore di distanza, sarebbe avvenuta il fatto della bomba, erano le sei e mezza, più o meno erano le 18 e 30. E questa è la nota positiva. La nota negativa è iniziata dal fatto che quando io ho iniziato a scendere questa scala, questa è stata una cosa che ho tenuto dentro di me per anni, poi ho detto anche, l'ho detto anche a volte in casa però, mi ha detto è una tua supposizione eccetera, però io ho avuto la netta sensazione, mentre scendevo quelle scale, di come se mi sprofondasse, ho avuto come una preveggenza, non lo so come chiamarla, come se mi sprofondasse il pavimento sotto i piedi. Il giorno dopo, alla stessa ora, passai con mia madre e mio marito, eravamo in tre sulla macchina, nelle vicinanze di via Giacchiero, perché eravamo andati a Quiliano a fare una questione, cioè eravamo andati in un negozio a comprare una cosa eccetera. E passammo, diciamo, in Corso Mazzini, ma non proprio nelle vicinanze, cioè non proprio in via Giacchiero, ma nelle vicinanze e questo avvenne il giorno dopo, il giorno in cui, il 20 di novembre. E vedi che c'era questo tutto, cioè che la città era in subbuglio, però logicamente io non ho messo in relazione questo fatto con la mia famiglia, ho detto, pensavo ad un incidente o qualcuno che si fosse sentito male eccetera. Però notai che, diciamo, la presenza di mezzi di pronto soccorso erano talmente, erano notevoli che ho detto, cioè, lì ho incominciato a preoccuparmi un attimo, però mai più avrei immaginato che la questione interessasse direttamente la mia famiglia. Comunque, ritornarmo a casa, poi il mio marito andò a fare la notte perché anche lui era in ferrovia e io rimasi sola in casa, ma senza, cioè, non ho avuto notizie da parte di nessuno, neanche dalla radio, dalla televisione eccetera, perché andai direttamente, cioè, quella sera lì combina il destino volle che io non avessi nessuna notizia della situazione. La mattina seguente, cioè la mattina del 21 novembre, sentì alle sette del mattino suonare la porta, mio marito doveva ancora arrivare perché sarebbe arrivato alle otto e vedo mio padre, cioè, vado ad aprire un po' così, diciamo, ancora sonnata eccetera, però vado ad aprire e vedo mio padre, mio padre che era in uno stato molto molto precario che però mi venne a dare la notizia che la zia nel lì, nella notte era mancata. Lui perché avvenne direttamente lui? Perché aveva paura che siccome visto il mio stato ai primi mesi di gravidanza eccetera, aveva paura che io, la questione alla venisse, alla venisse, a sapere bruscamente dai giornali, dall'opinione, insomma così, e me lo venne a dire direttamente lui. E premetto che lui aveva passato tutta la notte vicino a questa, alla morta, la quale aveva subito un intervento al fegato, i dottori allora avevano fatto di tutto per cercare di sanare questo schiacciamento che aveva subito mia zia, ma il fegato era spapolato e quindi è mancata. E poi di lì è iniziato l'iter di quello che avevo due giorni prima, che due sere prima avevo vissuto, cioè il fatto che la mia famiglia sarebbe stata entrata nel baratro della disperazione, perché ufficialmente la vittima è stata una, però nel tempo, cioè è stata una, è stata mia zia, logicamente quello che hanno riportato i giornali giustamente, però diciamo che al momento di quando la bomba è stata messa e di quando l'appartamento è crollato, dentro nell'appartamento c'era anche mio nonno, il papà di mio padre e mio zio, che non c'era nell'appartamento, però era appena uscito, era appena uscito ed era arrivato, era appena uscito dal portone ed era arrivato alla fine della strada di via Giacchiero e praticamente è rimasto scioccato perché aveva assistito allo scoppio. Per cui nel, diciamo, in questo evento drammatico sono rimasti coinvolti tutti i rappresentanti della mia famiglia paterna, cioè mio nonno, mio zio, il mio prozio che sarebbe stato il fratello di mia zia e logicamente la Fanny Dallari. Non al tempo, logicamente poi gli anni sono passati e diciamo mio zio è entrato, il fratello della Fanny è entrato in una situazione di shock dalla quale non si è mai più tirato su e ha perso la casa, è andato a vivere per quello che poteva in una struttura, e completamente, diciamo, scioccato e dopo breve tempo è mancato da questa situazione che si è lasciato andare e anche lui era una persona molto intraprendente, scriveva libri, eccetera, però questo shock non ha superato questa situazione e poi mio nonno invece che è caduto, è crollato, nel crollo e anche lui è precipitato e ha subito lo schiacciamento allo stomaco e a una gamba e diciamo che è stato per tre anni tra entrare e uscire, eccetera, dall'ospedale a Genova al San Martino e finché ha subito un accorciamento, ora non mi ricordo bene di quale gamba, di quale arto, però di una gamba per cui ha dovuto mettere un sostegno, diciamo, ora non mi ricordo, praticamente non aveva più, non riusciva più a camminare in modo normale, un tutore e poi ha dovuto mettere anche un gesso allo stomaco per cui diciamo che questo gli ha provocato poi nel tempo, detto dai dottori, non certamente da me, l'insogere di un tumore allo stomaco e portando questo gesso lo costringeva moltissimo e diciamo dopo tre anni così è mancato anche lui. Nel frattempo mio padre, che aveva un'officina meccanica, ha dovuto chiudere perché era l'unico figlio diciamo del maschio, ha dovuto per stare dietro al suo padre, ha dovuto chiudere per tre anni l'officina, cioè chiudere, la teneva aperta però non riusciva più perché andava sempre da mio nonno a Genova e non ha potuto subito lì per lì, non ha potuto, visto le condizioni precarie in cui c'era il suo papà, non ha potuto più seguire diciamo l'iter del risarcimento, dei danni di questa situazione. Mi ricordo che mio papà poi quando mio nonno è mancato, poi negli anni quando ha potuto è andato a chiedere risarcimento dei danni alle autorità di Savone eccetera, però sempre e questo mi fa molto male perché ricordo mio padre umiliato da questa situazione, era andato a chiedere al prefetto, era andato a chiedere, ma non è stato mai preso in considerazione, anzi una volta è andato nella segreteria alla segretaria del prefetto, ha aspettato quattro ore che lo ricevesse per il risarcimento dei danni però non è stato accolto, anzi brutalmente gli hanno detto che il risarcimento dei danni avrebbe dovuto chiedere il diretto interessato che sarebbe stato mio zio, il fratello della Dallari e il quale logicamente non era in grado con lo sciocco che aveva avuto, non era allora e subito non era in grado di andare ad affrontare questa situazione. Concludo dicendo che per quanto riguarda l'appartamento, non l'appartamento, diciamo il palazzo, tutti hanno avuto un risarcimento giusto perché poi logicamente anche gli altri abitanti della casa sono stati lesi, lo scoppio ha dato notevoli danni a tutto il palazzo, però hanno avuto il risarcimento pagato eccetera eccetera, noi direttamente, e questo lo posso dire con la massima onestà, noi non abbiamo avuto una lira di risarcimento, questo è quanto. Adesso mio padre è mancato da poco, io non ho mai parlato di queste cose diciamo sempre molto personali che hanno segnato comunque sia la mia vita e adesso che è mancato anche mio papà e so quanto lui indirettamente, anche se non ce l'ha fatto vedere però io l'ho percepito e come essendo la sua unica figlia e vivendo sempre vicino insomma in famiglia e quanto gli sia costata questa esperienza negativa e quindi anche in memoria di mio papà trovo il coraggio di esporre questa situazione che ho vissuto sulla mia pelle. Sarò sempre grata alla popolazione di Savona ha risposto immediatamente con delle ronde e che queste mi hanno delle ronde per vedere appunto se per proteggere la città, per proteggere diciamo i cittadini, c'era questa paura notevolissima perché poi praticamente la situazione era diventata, perché poi ci sono stati anche degli altri episodi mi pare, ora non mi ricordo bene però e quindi come Savona, come i cittadini di Savona, il popolo di Savona ha risposto in modo molto positivo alla difesa della città. ecco questo mi ha riempito, diciamo mi ha consolato perché c'è stata una risposta immediata e questa è una risposta immediata da parte della cittadinanza, cosa che invece da parte in punto delle istituzioni c'è stato come, cioè non c'è stato riscontro ecco. I funerali voleva venire, allora non mi ricordo esattamente, forse c'era Pertini, in questo momento non mi ricordo come capo di Stato, probabilmente all'epoca era Pertini, non mi ricordo esattamente, però so che alla famiglia mio padre era stato chiesto che ci fossero i funerali di Stato, cosa che mio papà, visto che siamo molto, cioè dal punto di vista pubblico abbiamo cercato sempre di essere un po', cioè di essere molto, cioè non abbiamo voluto di essere come ora mi sfugge il termine, è molto riservati, comunque quindi mio papà ha rifiutato questa situazione, lei è stata, le esecue sono state, sono avvenute i funerali nella chiesa di Viontoria che poi era la chiesa di mia zia, dove a cui apparteneva mia zia, la famiglia di mia zia e comunque sia alcuni, e quindi abbiamo, le esecue sono state molto riservate, però mi ricordo che è venuto Cocco, non mi ricordo che il giudice, esatto, da Genova, il quale poi a sua volta anche lui ha subito, cioè anche lui è stato soggetto di questi, di attentato e mi pare, credo, e sì, Genova ha risposto, lui si è sentito in dovere di partecipare, il capo dello Stato ha mandato una corona, una corona, una grossa corona di fiori e via, niente, però ho avuto, noi come famiglia non abbiamo, non abbiamo, abbiamo rifiutato i funerali di Stato, anche perché mia zia era una persona molto riservata, poi non avrebbe, anche lei stessa non avrebbe voluto questa situazione. Allora, io dunque è stato insabbiato tutto, perché avevano dato importanza, l'unica cosa che hanno messo in risalto di quella sera era il fatto che c'era questa macchina bianca che poi risultava la nostra macchina, quindi non c'è, ecco l'importanza che hanno dato, però poi per il resto pare che qualche personaggio importante della politica di Savona fosse, il figlio di qualche personaggio importante fosse direttamente interessato alla questione. E quindi per questo motivo, e penso che questo sia stato il motivo fondamentale per il quale mio padre non è mai stato preso in considerazione, perché la cosa sembrava fosse nata da un membro della politica di Savona, che era delle istituzioni di Savona, diciamo. Per cui, come è stata da noi vissuta? È stata vissuta in un primo tempo, io quasi, diciamo che Savona, volevo andarmene quasi via da Savona perché, per il mio vissuto, diciamo che ho quasi... c'è stato un momento di ribellione da parte della famiglia, ecco, perché di come siamo stati trattati, di come siamo stati non considerati, di questa umilazione che abbiamo subito nel tempo, però poi purtroppo con i casi che sono avvenuti in seguito, anche in tutta Italia, c'era stata poi Piazza Fontana, ora non mi ricordo, in quel periodo nero dell'Italia, cioè voglio dire, a un certo punto, visto quel periodo che l'Italia stava vivendo, abbiamo cercato di sopportare, di superare, non dico di perdonare, però di vivere in pace il più possibile fra noi, ecco, nella nostra, nel nostro dolore della nostra famiglia, ecco.